ciao a tutti questo è il mio primo video e ho iniziato pensando di mostrarvi gli ultimi acquisti allora il primo acquisto l'ho fatto da brillanti creazioni io ho acquistato grazie ai consigli di valentina o o o ai suoi video insomma quattro camei questo cameo rosa con appunto una rosa in rilievo poi ho acquistato questo cameo con la madonnina e i due angeli anche questo qua davvero molto bello e ho acquistato questa fatina con lo sfondo azzurro sempre rilievo e infine ho acquistato questo cameo con madonnina il rilievo spero di incastonare il più presto possibile di farvi vedere come li ho realizzati mi hanno regalato questa pietra questo sassolino come si voglia chiamare sempre da incastonare vero magari ci fra un anello quindi questo è il mio primo acquisto fatto appunto da da brillanti creazioni poi ho fatto un acquisto mi è arrivato l'altro ieri da obi perline non avevo mai acquistato è un sito sempre che ho appena scoperto e ho acquistato miyuki 11 0 le dedica ovviamente e le rocaille 15 0 allora i colori acquistati delle mie delica miyuki 11 0 sono matte light rose 8 grammi codice db 0 3 5 4 non so come mai ma questo colore non piace davvero tanto poi ho acquistato un altro colore fantastico e non mi aspettavo veramente che era così bello che fosse così bello sempre 11 0 acqua blu crystal ab codice db 0079 è un colore fantastico non ci sono altre parole con questo sicuramente si fanno dei bellissimi lavori poi ho acquistato queste miyuki grey luster scusate ma in inglese abbastanza schifido il codice db 02 52 poi ho acquistato queste delica ok queste delica che sono matte pink grey iris 8 grammi db 03 80 vedete mentre il colore anche se la telecamera con luce artificiale non si vede molto bene poi ho acquistato il colore anche se la telecamera con luce artificiale non si vede molto bene poi ho acquistato il golden bronze codice db 0 1 8 1 ho acquistato il metallic blue db 0 0 0 0 2 questo sembra scuro sembra così nero ma è un blu proprio metallizzato poi queste crema magari anche da incastonare con un cabochon così appunto crema db 03 52 si vede abbastanza bene poi ho preso queste delica bronze metallic bronze davvero fantastico il codice db 0 0 22 allora poi passiamo le rocaille ho preso il crystal montana blu th 09 no th 90736 scusate ma anche l'ora ho preso questo colore ho preso l'ho pal turchese l'ho pal turchese l'ho pal lavanda faccio una carrellata perché il metallic iris brown light beige metalliche metalliche mattite che il mio preferito questo colore che è silver till quello del genere comunque il codice th 90836 questo vi dico il codice perché non so bene il colore l'opal grey anche questo qua magari da abbinare con questo l'opal baby pink e l'opal jet niente questi qui sono i miei acquisiti appena fatti al più presto pubblicherò anche un video con alcune creazioni fatte non proprio di recente e niente spero che vi sia piaciuto e al prossimo video continuate a seguirmi grazie 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 grazie